eccoci qui ragazzi intanto buongiorno l'argomento di cui parleremo oggi è uno dei massimi artisti di tutti i tempi il grande unico straordinario leonardo da vinci di qui da qualche tempo è ricorso un importante universario e di cui ci giungono periodicamente notizie quanto opere ritrovate come il famoso cristo redentore attualmente ospitato in un museo in arabia saudita poco prima che iniziasse il dramma del covid quest'opera insieme ad altre era stata mostrata a parigi in occasione di una mostra memorabile in cui la maggior parte dei dipinti e anche alcuni disegni alcuni studi altrettanto importanti dei dipinti di leonardo erano conservati sembra una cosa quasi impossibile non perché le opere di leonardo siano tante sono a parte i disegni pochissime si contano quasi sulle dita di due mani ma sono di un tale interesse di una tale qualità ormai universalmente riconosciuta che chiunque li possieda le considera opere decisamente inamovibili eppure ancora si continuano a scoprire come nel caso di caravaggio opere che forse non sono figlie di leonardo forse parafrasando la sua famosa metafora sono nipoti provengono dalla sua bottega ma comunque ci restituiscono un soffio di quella straordinaria qualità di quella straordinario vigore stilistico anche se forse vigore non è la parola più corretta perché l'arte di leonardo non è un'arte che si impone né per potenza né per forza è una è un'arte leggera sottile che ti conquista con la sua naturalezza come quel caldo vento di primavera che con ogni probabilità in ebrio il padre di leonardo quando leonardo fu concepito leonardo è frutto di un amore primaverile di un signorotto possiamo definirlo così locale di un signorotto di vinci perché lui che ne dica den brown si chiama da vinci perché questo fosse il cognome di suo padre ma perché vinci è la sua città natale un paesino toscano non troppo distante da firenze dove il padre ancora non aveva un ruolo una dimensione pubblica però era comunque figlio rompollo di una famiglia bene di una famiglia di notari il resto questa sarà la sua carriera il suo lavoro più tardi e quando si trasferirà a firenze ora l'essere un figlio clandestino poi riconosciuto dal padre per leonardo fu una grande benedizione anche perché il padre aveva tutto l'interesse a concepire altri figli a seguito di fruttuosi matrimoni che potessero aiutarlo nella sua scalata sociale quindi il giovane leonardo viene messo da parte viene affidato alle cure del nonno e dello zio e queste cure per quanto premurose possono essere non hanno niente che spartire con un'educazione tradizionale qui e gli altrimenti non sarebbe sfuggito l'educazione tradizionale è un'educazione mnemonica fondata sulla ripetizione tanti vocaboli da prendere a memoria tanti costrutti greci e latini da praticare e ancora tutte le arti del trivio e del quadrivio in cui ammaestrarsi sempre guardando al faro dei classici alle loro indiscussa e soprattutto indiscutibile autorità proprio perché il principio dell'educazione di un giovane da bene in quel tempo era anche l'obbedienza e soprattutto l'obbedienza all'autorità perché no pure all'autorità dei maestri di quei giganti sulle cui spalle faticosamente noi ci aggrappiamo e quindi il giovane leonardo avrebbe dovuto cedere a una miriade di ips e dixit avrebbe dovuto venir meno a quello che fosse il suo dono più grande la curiosità e avanti leonardo questo giovane che in questo ritratto non ci scruta più da giovane ma fissa comunque non si capisce se su noi o sul vuoto il suo sguardo imperscrutabile arriverà a dire che la curiosità è la madre della scienza e ancora la natura quella natura in cui gli è consentito di trascorrere tantissimo tempo io me l'immagino mentre costruisce dighe sui ruscelli o viviseziona gli insetti per allenarsi a quello che sarà il suo futuro di costruttore di macchine e di anatomista di primordine anzi fondatore dell'anatomia possiamo senza termine di smentita credere che sia stato proprio lui non compie studi tradizionali compie studi autonomi il nonno gli lascia fare praticamente quello che vuole lo fa scrivere anche al contrario da destra verso sinistra e con lettere rovesciate di modo che la sua scrittura si possa leggere soltanto allo specchio gli permette ogni sorta di strenezze soprattutto quando leonardo che cresce come uomo senza lettere di questo si rammaricherà arriverà all'età del lavoro all'età in cui è opportuno per un giovane scegliere una carriera e gettare le basi professionali per il suo futuro ecco a quell'altezza leonardo potrà entrare in una bottega il padre nel frattempo si è trasferito a firenze è uno dei notari dei medici quindi è una persona che ha molti rapporti molte relazioni lo raccomanda e fa sì che leonardo venga accolto nella migliore bottega di firenze quella di andrea del berrocchio la bottega che era una cucina di talenti pensate che negli anni in cui leonardo inizia a lavorare la presso questa bottega lavora pure botticelli e presso la bottega del berrocchio leonardo prenderà una miriere di cose prenderà l'arte della pittura prenderà l'arte della scultura si interesserà di questioni tecniche che da subito saranno al centro della sua attenzione al centro del della sua della sua ricerca può farlo perché nella bottega del berrocchio si progettano macchine si costruiscono armi insomma il giovane leonardo se vuole fare pratica qui e presso questa bottega e ben servito cosa farà leonardo ecco questa è la sua firma questa è la casa natale di vinci questo è un altro suo ritratto questo un disegno giovanile negli anni dell'apprendistato il vostro libro se non ricordo male lo pubblica è un disegno nuovo è particolarissimo anche perché quel tratto che era stato tipico di un artista come botticelli qua viene completamente abbandonato in nome di un trattamento della materia che non è più un trattamento come dire cerchiamo ah dai mi sono cancellato devo soltanto ecco ingrandire la mia immagine perfetto che non è più un trattamento netto rigido come quello di leonardo bensì un trattamento molto pittorico e queste sfumature diventeranno per passare degli anni il suo tratto caratteristico ma vedete mentre lui lavora presso la bottega del verrocchio finisce anche per collaborare con lui finisce per esempio per realizzare un'opera a quattro mani anche se come vedremo le mani sono un po' di più con il maestro quest'opera che adesso vi mostro è il battesimo di cristo eccola qua si trova alla galleria degli uffizi rappresenta come vedete cristo al centro mudo ricoperto da un drappo di stoffa colorato con i piedi immersi in un acqua liquide l'effetto è molto bello alla sua destra il battista che è col braccio sollevato versa attraverso una ciotola dell'acqua sul suo capo lungo la perpendicolare del dipinto perpendicolare evidenziata anche dalle mani di dio padre dallo spirito santo presentato nell'atto di riscendere in forma di colomba attraverso una profusione di raggi mentre anche altri uccelli inconsapevoli indifferenti o atterriti da quanto sta accadendo compiono il loro volo e si allontanano dal cuore della rappresentazione evidenziato intanto dalla posizione centrale che quella tradizionale di cristo e poi dai forti risalti direi quasi scultorei del battista che qui viene rappresentato né più né meno come una statua potrebbe anche essere una statua del pollaiolo di un maestro rivale mentre al lato opposto si trova una palma in realtà piuttosto stilizzata ecco vedete nelle botteghe e la realizzazione di un'opera implicava un lavoro di squadra un lavoro di gruppo di solito i più giovani preparavano il fondo artisti più consapevoli per esempio alcuni credono che botticelli abbia contribuito alla rappresentazione del battista mettono mano all'opera altri i più bravi i più promettenti sono chiamati a realizzare alcuni dettagli non è detto che il capo bottega indovini sempre quanto a scelta di collaboratori oppure può darsi che questi collaboratori siano collaboratori forzati perché in una bottega ci sono tanti lavori da compiere tante commissioni da svolgere e non sempre i mani migliori sono disponibili certo è che le mani in alto la colomba soprattutto le mani in alto non sono questo grande capolavoro di pittura e anche la palma sulla sinistra sembra che qualcuno le abbia copiata dalla panna dei lego delle figurine viceversa lo sfondo le acque tanto di cappello lo stesso pure per la figura del battista però ci sono gli altri dettagli dei particolari che la critica tradizionalmente attribuisce al grande leonardo mi riferisco ai due angeli in basso al sinistra e soprattutto a questo paesaggio ricordate il paesaggio su cui ci siamo soffermati prima quella viaduta disegnata sulla riva dell'arno io immagino leonardo col suo tacquino seduto sulla cima di un colle e intento ad osservare e attrascrivere ciò che lo sguardo gli suggerisce attraverso un contatto una presa diretta con la natura che è già fortissima potente ecco anche questo paesaggio è realizzato allo stesso modo vedete come le linee sono estremamente diverse quasi non ci sono i contorni sfumano si assottigliano il colore prevale sulla confine sulla marcatura netta decisa in un certo senso violenta come poteva esserlo il disegno di un botticelli nel contorno è l'atto di nascita di una delle grandi invenzioni di leonardo e lo sfumato la consapevolezza che gli oggetti in lontananza sembrano come sfarinarsi sciogliersi i loro contorni colpiti dai raggi del sole si dissolvono e l'esito è un'immagine indistinta indeterminata come se una soffusa nebbiolina le facesse velo impedendoci di coglierla con una precisione millimetrica con la precisione per esempio con cui i fittori fiamminghi ricordate van der beiden ad esempio nella sepoltura nella sepoltura di cristo avevano confezionato i loro sfondi ecco no leonardo non si basa sull'invenzione e sulla ricostruzione intellettuale si basa su ciò che i suoi sensi gli suggeriscono e non lo fa solo per quanto concerne la resa della natura lo fa anche per quanto concerne la resa dell'umano guardate per esempio l'angelo sulla sinistra il volto ma soprattutto i capelli morbidi ricci questa orribile aureola è una giunta successiva vedete come leonardo perché la critica attribuisce con certezza la mano di leonardo faccia vivere un particolare di un dipinto con una carica con un'intensità tale che in un certo senso arriva quasi al destabilizzare l'opera spostando il centro di attenzione quella verticale su cui con c'è con su cui si concentrano tutte le linee in basso sulla sinistra nel volto di quest'angelo che guarda che osserva e nel paesaggio che slontana lungo la linea dell'orizzonte e infatti basali racconta che quando verrocchio vide quest'opera non ne volle più sapere di dipingere si convinse che il discepolo aveva definitivamente superato il maestro e quindi decide di dedicarsi esclusivamente alla scultura a quanto pare anche leonardo si dedica alla scultura però ci addentriamo su un territorio impervio un territorio che non ci offre testimonianze certe quindi molto volentieri seguiamo l'argan che di leonardo scultore si occupa usuriamente e solo in relazione agli anni milanesi agli anni lombardi e procediamo ad una disamina delle prime opere dell'artista per esempio le tante madonne col bambino come la madonna dreyfus oppure la madonna del garofano la madonna benoit per esempio io non riesco a trovare con facilità le loro immagini però questa è famosissima la madonna del garofano lo si capisce perché tiene un garofano tra le dita è un particolare della madonna del garofano con l'oggiato dietro è un paesaggio in cui c'è già tutto leonardo guardate il volto gli occhi soppiusi il modo in cui guarda il bambino purtroppo ecco i dettagli ce lo restituiscono si vede che leonardo sta iniziando a guardare alla figura non più non più limitandosi a renderne la forma fisica l'aspetto quanto piuttosto concentrandosi sulla sua interiorità ecco opere come come questa come la madonna del garofano o come quest'altra che vi mostro il ritratto di ginevra benji ci mostro ci fanno comprendere che l'artista è già assolutamente padrone del suo mezzo quanto riguarda questo dipinto che si trova in america in un museo purtroppo è un dipinto incompleto che può darsi che a seguito di un danneggiamento di un'usura ma in ogni caso la parte inferiore dell'opera è stata tagliata il dipinto è stato raccorciato rimpicciolito ma quello che noi vediamo ci riconduce con nettezza a una nostra vecchia conoscenza ricordate la dama col mazzolino di verrocchio soggetto è lo stesso quindi la dama col mazzolino è il ritratto di ginevra benji la dama col mazzolino stringeva le mani e nelle mani teneva un piccolo mazzo di fiori e in quel gesto di stringere le mani si concentrava tutta la sua bellezza e tutta la sua straordinaria qualità espressiva erano mani parlanti probabilmente dovevano esserlo anche in questo ritratto di leonardo a cui unica differenza è la postura non frontale ma leggermente inclinata di tre quarti in modo da conferire profondità all'opera e consentire al nostro sguardo di addentrarci nella vallata retrostante la figura di ginevra andando oltre quella pianta di gine di ginepro che con quasi la palissiana evidenza nome nomen un riferimento al soggetto effigiato proprio per qualche anno dopo e realizzato quest'opera leonardo non lavora forse perché dentro i suoi tanti interessi continuano a macinare a muo a macinare a lievitare forse anche perché nel 1476 leonardo quindi si presume dopo la realizzazione del ritratto di ginevra anche se la datazione non è certa a a un incidente a un incidente un po un po serio e cioè viene accusato di sodomia viene accusato di aver violentato in compagnia di altre persone un garzone di bottega 17 anni un tale jacopo e saltarelli ora non che l'omosessualità a firenze fosse particolarmente condannata pensate che in europa l'omosessualità maschile era definita il mal fiorentino però se si veniva scoperti erano guai seri la pena era la morte una pena cui leonardo si sottrae vuoi per l'influenza del padre vuoi perché tra i correi cioè tra le persone che con lui erano state coinvolte nel fattaccio c'è anche un giovane torna buoni c'è un membro di una delle più illustri e nobili casate e fiormentine quindi la storia viene insabbiata ma niente di strano che leonardo per qualche tempo preferisca starsene un po quieto un po per i fatti suoi continua continua continuerà poi questo è il retro di quell'opera straordinaria questa è una ricostruzione ipotetica di come avrebbe potuto essere il ritratto di ginevra benci una riproduzione del paesaggio però noi non possiamo parlare solo del ritratto di ginevra benci ci sono altre opere come ad esempio la madonna benoit di cui questo è un particolare questa è l'opera nella sua interezza nel vostro libro questa madonna è presente ci mostra quali siano gli interessi dell'artista ecco se per esempio un artista come botticelli aveva rappresentato tante madonne col bambino voi capite che ecco cosa interessava botticelli delle sue madonne col bambino interessava la bellezza delle figure femminili era se possibile ancora più sensuale del suo maestro filippo lippi infatti sceglie delle figure di grazia quasi sovrumana sono madonne alte biondissime le donne di leonardo sembrano popolane sembrano della stessa classe sociale di appartenenza della madre della madre la madre contadina che lo allattò nonostante lui fosse stato riconosciuto dal padre per cinque anni ma che poi dovette salutare lasciare e di fatto nelle madonne col bambino di leonardo noi troviamo una grande tenerezza troviamo anche un interesse all'arresa di aspetti comportamentali che per esempio botticelli non c'è botticelli interessa la bellezza la grazia il nitore squillante della figura immagini leonardo è un bratile buia ma buio riscaldato dall'affetto dal gioco guardate il bambino sta giocando con un fiorellino che la madre gli mostra guardate l'attenzione l'intensità dello sguardo per poi magari sottrarglielo sottrarglielo ridarglielo di nuovo accompagnando questo gesto a una canzone o a dei drilli alle parole scherzose tipiche delle madri quando quando si rivolgono affettuosamente ai loro figli e quindi leonardo si sta interessando una dimensione intima privata che rappresenta un po un territorio per l'arte nuovo un nuovo mondo un mondo ancora tutto da esplorare questo però lo vedremo nella prossima lezione vi saluto ragazzi a presto